Le grandezze vettoriali o vettori sono grandezze fisiche caratterizzate da un numero, che ne esprime la misura rispetto a un'unità prefissata, da una direzione e da un verso. La misura di un vettore si chiama anche intensità, valore oppure modulo. Sono esempi di grandezze vettoriali lo spostamento, la velocità, l'accelerazione e la forza. Le grandezze fisiche a cui non si può associare una direzione vengono invece chiamate scalari. Le grandezze scalari sono individuate soltanto da un numero. Un esempio di grandezza scalare è l'intervallo di tempo. Per caratterizzarlo basta darne la durata, per esempio in secondi. Altri esempi di grandezze fisiche scalari sono il volume, la pressione, la temperatura o l'energia.